Purtroppo assistiamo a una vicenda davvero triste per quanto riguardano i fondi del Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2. I balneatori abruzzesi attendono da oltre 5 mesi i ristori previsti per le mareggiate del novembre 2019 e oggi, in occasione della presentazione dell'ennesima interrogazione circa le modalità di erogazione di questi fondi, arriva una proposta di legge di Marsilio e i suoi che toglie parte di questi fondi. Esattamente 200 mila euro vengono stornati dalle mareggiate e vengono assegnate ad altri provvedimenti. Invece di dare 6 milioni di euro e più al Napoli Calcio oppure un milione di euro ai cartoni animati, benissimo potevano essere conservati questi fondi importantissimi per l'economia del mare.